happy non è forse l'ora di dagli e il distintivo della pizza salve rubetti ti sa che cosa avrà in mente dagli per voi oggi ciao mancano cinque minuti stupenda come potrebbe ammirare i suoi occhiali da sole senza uno specchio? mancano cinque minuti stupenda come facciamo ad arrivare alla nostra porta con tutti questi scogliattoli che ci volano intorno? katy la cangura finalmente ti ho trovata ho un pacco per te ciao ciao